Sono certo che troverà questa parte del mio castello molto più accogliente. Oh, piuttosto. È molto diverso dall'esterno. Ah, e quel fuoco è... è così allegro. Nell'evenienza che lei potesse avere fame. Grazie, lei è veramente gentile. Ma sono preoccupato per il mio bagaglio, capisce? Dentro ci sono i suoi documenti. Mi sono preso la libertà di farlo portare di sopra. Mi permetta? Allora, sì. Grazie. Mi auguro che lei abbia tenuta segreta la sua venuta qui. Io ho seguito scrupolosamente le sue istruzioni. Mi compiaccio, signor Renfield. Mi compiaccio. E ora, se non è affaticato, gradirei parlare del contratto per l'abazia di Carfax. Oh, sì. Tutto è stato sistemato. Non manca altro che la sua firma. Guardi, il contratto d'affitto. Ah, io spero di avere sufficienti etichette per i suoi bagagli. Io porterò con me solo tre casse. Ah, benissimo. Io ho già noleggiato una goletta che ci porterà in Inghilterra. salperemo l'ancora domani a notte fatta. Tutto sarà pronto per tempo. Io spero che lei si troverà qui a suo agio. Grazie, all'aria molto invitante. Non è niente di grave, solo un taglietto che mi sono fatto con quel fermaglio. E' appena un graffio. Questo è un vino molto buono. Io spero che le piacerà. E lei non beve? Non bevo mai vino. Allora...